benvenuti ad appunti dintorni vediamo come sempre i principali appuntamenti che ci fanno vivere la settimana anche dal punto di vista del tempo libero con uno sguardo già al weekend come nel caso del teatro Fraschini di Pavia perché arriva un grande personaggio sul palcoscenico Glauco Mauri protagonista di Relier venerdì 21, sabato 22 alle 20.30 e poi anche domenica pomeriggio domenica 23 gennaio alle 16 con la compagnia Mauri Sturno e la regia di Andrea Baracco è la più titanica tragedia di Shakespeare dramma dell'amore padrifigli e della follia i biglietti online sul sito delteatrofraschini.it presso la biglietteria del teatro allo 0382 371214 apre sempre un'ora prima di ogni spettacolo ricordate che per accedere sia ai teatri che ai musei che comunque ai luoghi a chiuso come i cinema occorrono Super Green Pass e mascherina FFP2 e quindi anche a Politeama per vedere il film di Elio Germano che rimane in scena fino al 18 gennaio c'è il terzo lungometraggio dei fratelli di Innocenzo presentato in concorso alla 78esima mostra del cinema di Venezia e di Innocenzo che tornano a fare grande cinema con un'indagine potente e spiazzante nel buio di una coscienza l'appuntamento alle 21 andate sul sito per i biglietti politiamapavia.it o presso la biglietteria del cineteatro che apre mezz'ora prima di ogni proiezione sabato e domenica dalle 15.30 alle 21 ci sono laboratori per bambini a Vigevano alla scoperta dei musei civici con l'associazione La Città Ideale il prossimo appuntamento è in programma domenica 30 gennaio alle 15 con una breve lezione introduttiva alla collezione dei musei però occorre prenotarsi per tempo proprio perché per restrizioni anti-covid c'è un numero limitato di bambini sarà di 10 349 733 8909 oppure b.geremia et libero.it fino a 29 gennaio è possibile visitare la mostra a scarpe rosse quando il design diventa simbolo presso il Museo Internazionale della Calzatura a Micca di Vigevano inaugurato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne di novembre gli orari dal martedì e venerdì dalle 14 alle 17.30 sabato e la domenica dalle 10 alle 17.30 ancora fino al 6 febbraio è passato Natale ma c'è ancora la possibilità di vedere un capolavoro come il presepe di carta di Francesco Londogno e con l'occasione se siete al Museo del Cesano di Porta Ticinese a Milano c'è anche l'annunciazione di Tiziano che vale davvero la pena di ammirare andate sul sito chiostrisanteostorgio.it per tutte le informazioni e i biglietti fino al 28 febbraio ai musei civici del Castello Visconti di Pavia c'è la mostra a margina delle forme della libertà curata dall'assessorato alla cultura del comune presenta oltre 30 lavori tra tele e grandi opere su carta e installazione sono 13 artisti contemporanei italiani e internazionali gli orari dalle 10 alle 18 per informazioni museicivici.comune.pv.it a Pavia c'è anche al Museo della Tecnica Elettrica di Via Ferrata la mostra dedicata allo scienziato Tesla fino al 28 febbraio prossimo per i bambini laboratori di smontaggio oggetti visite guidate per gli adulti la partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite la mail prenotazione.mte.unipv.it infine il piano vaccini Lombardo è sempre possibile prenotare sul portale di poste il vaccino per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su si può cambiare la data l'ora e il luogo anche della terza dose effettuabile per chi ha completato il ciclo completo da almeno 4 mesi terza dose prenotabile anche per i giovani nella fascia 12-15 anni allora andate sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800-894-545 o ancora rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta necessaria per presentarvi al centro erogazione vaccini o andate ai post amata ma con tessera sanitaria inviate tutte le vostre segnalazioni corredate da foto lucandini o video a info.pavia1tv.it o info.lombardialive24.it o ancora via whatsapp al 389-2566-296 grazie per essere stati con noi e a domani con appunti e dintorni grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.